Bella Wolfini e bentornati all'On Wolf on the Toto Channel, siamo tornati con un nuovo video Signori, avete letto giù il titolo? L'avete letto sì? Perché sta accadendo qualcosa di sensazionale Per la prima volta in Italia ci sarà un evento eSports che andrà in onda su Sky E stiamo parlando di Sky Sport 3 e Sky Sport Mix, venerdì le finali della FIFA Interactive World Cup raga È la prima volta proprio in Italia e devo ammettere che non potevo essere ancora più contento Perché farò parte di questo evento, perché sarò il commentatore tecnico insieme a Matteo Barzaghi e Andrea Marinozzi Quindi noi tre insieme commenteremo le finali, le finali per console e poi la super finale che sarà su entrambi le console E devo dire che è una cosa sensazionale Purtroppo ovviamente non prenderò parte come giocatore in queste FIFA Interactive World Cup 2017 Ma la prenderò come commentatore tecnico, insomma entrare comunque nella, tra virgolette, storia anche di un programma televisivo È veramente bello E devo dire che poi ovviamente come ben sapete qualificarsi alla FIFA Interactive World Cup ogni anno da sempre È sempre stato molto difficile con le qualifiche estere o qualifiche online Perché ovviamente stiamo parlando comunque di quando vai all'estero Insomma, lo sapete che è andata ad affrontare giocatori molto molto forti, molto preparati Quindi è molto difficile portare a casa un ottimo risultato e insomma una qualifica Perché praticamente devi vincere come le FIFA Interactive World Cup Bisognava arrivare o primo o secondo Comunque bisognava vincere la propria console Mentre per quanto riguardava la parte online È ancora più complesso perché in più magari oltre ad affrontare molti avversari forti Sai che può accadere la disconnessione, possono avere lag, insomma tutte ste robe Che in più danno ancora più problemi Ma comunque risulta molto molto difficile quindi qualificarsi E in pochi riescono quindi ad arrivarci ovviamente Detto questo ragazzi vi volevo ribadire che insomma Verdi 18 Dalle 17.30 alle 19.30 Sarò anch'io quindi su Sky Sport 3 o Sky Sport Mix A fare il commentatore tecnico insieme proprio a Matteo Barzaghi Insieme proprio a Andrea Marinozzi E praticamente quindi parleremo insomma di tutta la finale Ad oggi non sappiamo insomma chi andrà in finale Ci sono tanti forti giocatori Quindi sono sicuro che chiunque di quelli che arriverà in finale Sarà un torneo veramente veramente bello da vedere Proprio nelle fasi finali Proprio perché poi si stanno giocando quel monte premi Quindi in tutto ciò io volevo ringraziare di fronte insomma a tutti voi Anche Sky che ha preso in considerazione questa cosa E quindi ha iniziato a capire che gli esports sono fondamentali Comunque per noi giovani che sono un qualcosa che ci piace seguire Quindi è una figata Io voglio vedere come sarà proprio questo primo evento Speriamo che vada bene Quindi raga lasciate un bel mi piace E noi ci vediamo venerdì su Sky Ciao belli Ciao 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 Ciao